Salve a tutti, siamo in compagnia di Soraya Pantano, una dei personaggi della Via Crucis 2017. Ciao Soraya, presentati al nostro pubblico. Salve a tutti, io sono Soraya Pantano, ho 9 anni e frequento la scuola primaria. Questa è la prima volta che faccio la Via Crucis. Brava Soraya, cosa si prova a partecipare alle prove della Via Crucis? Sì, è molto bello farla, si provano molte emozioni e soprattutto si conosce gente nuova e questa è la manifestazione più importante che si fa a Figarazzi. Soraya, che ruolo ricopri nella Via Crucis? Io come ruolo ricopro il paggio. Siete molti bambini quest'anno, vero? Sì, molti. Allora Soraya, dato che sei così piccola e sei emozionata, invita i cittadini a partecipare alla Via Crucis 2017. La Via Crucis 2017 si serrà alla piazza Santi Padroni giorno 8 aprile alle ore 20. Aspetto che voi venite e... Che siate numerosi. E che siete numerosi. Non possiamo fare altro che ringraziare Soraya Pantano così piccola e già la sua prima partecipazione della Via Crucis di Ficalazzi. Ciao Soraya. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.